Si iniziaaaaaa Allora oggi giocheremo a Fall Guys E niente, son caduto, dunisiani Adesso cercheremo di sopravvivere E di vincere, di prendere la corona, quella corona maledetta Voi sapete no che qua si arriva, chi arriva per ultimo vince No, nel senso, chi arriva per primo a prendere la corona vince, che è leggermente diverso Hai rotto le palle, diciamo che però così non si raggiunge la prima posizione dunis E quindi concentrati, mannaggia te e alle tue chiappette Allora stiamo attenti qua, ovviamente qua la tecnica come al solito è passare a lato Perché se no poi dopo vai a sbattere, non a sbattere Perché mi fa ridere la parola sbattere, non so, sono strano Comunque ovviamente ci siamo qualificati, cioè quale bravura dunis deve avere per poter essere qualificato Allora, vabbè, eh sì, ti svegli però, ho capito Dai, dai, dai Ma cos'è sta roba, scusate, io ho trovato sta cosa qua sul, sul tavolo No, scusate adesso, questa è una diretta, no? In diretta, vediamo cosa c'è Allora Mi spiegate che, caspita, sono ste cose Cioè perché io qua Adesso ve lo faccio vedere come le influencer, no? Cioè perché io qua ho delle cose di questo tipo Non so, non so Comunque partiamo con la prossima modalità E allora dobbiamo spingere le palle nella nostra zona Dobbiamo prendere tutte le palle e portarci Allora noi siamo i rossi, io ero convinto che fossimo i gialli Ma vabbè, fate finta di niente Allora adesso andiamo a prendere le palle azzurre Perché quelle sono più Allora spostati immediatamente tu Ehi, stupido babbano schifoso Allora già la mia squadra perfetta sta vincendo Perché c'è Dunis qua Anche altri, vedo Non osate brutti scroffoni Brutti maialoni Spingete immediatamente ste palle nella zona Spingete le palle nella zona rossa O creature del male Figli degli inferi Guardate un coso Cactusiano in testa Non vi permettete mai più Dai, siamo rimasti senza nessuna palla Siete inutili Avversari squadra inutile Allora adesso portate tutto qua Altrimenti porca miseria Non sapete che cosa io vi faccio Io devo registrare il video Non devo essere bravo a giocare, ok? Forse non avete capito Scherzo eh Non sono così squinternato Oh ehi Mi stanno Dunisiani Mi stanno facendo incavolare Come una scrofa Mannara gigante Allora Concentriamoci sui gialli Perché vedo che i gialli Sono meno potenti Dei blu Noi siamo più potenti In teoria dei gialli Vedete C'è una palla Non dobbiamo finire assolutamente in parità Quindi adesso dobbiamo rubargli La palla ai gialli Le palle gialle Porca miseria Dobbiamo prenderle E portarle Dire madonna Di quello Fate schifo però Fate facendo Io non so come dire Io non so proprio come dire Cosa pensare Oh creature del male Io adesso devo aspettare Devo far arrivare Il Il demonio in terra Per la rabbia Che io propongo Io lo sapevo Questa Questa Era Un oggetto Un oggetto maledetto Che faceva sì Che Duny Si trasformasse nel Demonio Più inquietante E spauroso Dell'universo Vai Alla prossima Vai Siamo pronti Abbiamo l'oggetto Del Demonio Ok Mai far arrabbiare Una persona Con questo oggetto Sì però Il tizio qua È proprio scemo Ma perché Tu idiota Crettino stupido Guarda Continua a cadere Ma allora Vai a cadere Nel cesso Non so Che fai prima Idiota stupido Mi sta facendo Dunisiani Dunisiani Mi sta facendo Incavolare Come una scrofa Mannara Come una scrofa Di quelle mannare Allora Immediatamente Svegliatevi Immediatamente Forza Si può essere così Dio Cioè Secondo me Non si può Secondo me E mi merito Guardate Io mi merito Di Di non vincere Questa Olè Però Però La vinco Perché Dunis È Fortunato Come una scrofa Però ora Stiamo attenti Alla prossima modalità Che verrà Stiamo attenti Alla modalità Che potrebbe essere Maledetta Eh Voi sapete Se per caso Su Fall Guys Ci sono Modalità Maledette Con le scatole Con le scatole Le scatole Detto Maledette Eh Qua ci sono I pesetti Vabbè Sono Sono tipo Dei pesetti No Guardate Guardate qua Porca miseria Sono cose Davvero Inimmaginabili Dunisiani Veramente Io Ho scioccato Completamente Ma Adesso Dobbiamo navigare Fra gli ostacoli E soprattutto Dobbiamo prendere Il mouse e la tastiera In mano Altrimenti Non vinciamo In assoluto C'è po' di niente Eh Siete contenti Vero Però forza Adesso Partiamo All'avventura Io mi butto direttamente giù Perché tanto so Che là comunque Ci caderei Quindi non perdo Ulteriore tempo E vado Vado Più veloce Della luce Più veloce Del tempo Più veloce Di tua sorella Svegliati immediatamente Perché se no Cheat Se no qua È Dunis Si nervosisce Non va bene Scusatemi Scusatemi Ignoranti Crettini Posso Passare Brutte Scrofe Brutti Scrofoni Schifosi Non osate mai più Portare Sfiga A Dunis Devo Devo asciugare Un attimo Lo sputino Che ho fatto Sullo schermo Si chiedo Scusa Naturalmente Ovviamente No però Svegliati immediatamente Perfetto Siamo stati qualificati Siamo stati Molto bravi Ora però Questo è il telecomandino Che è un telecomandino Tipo Che comanda le luci Dell'inferno Voi sapete che Dunis Quando si arrabbia Praticamente Diventa il re Dell'inferno Quindi ovviamente Ha questo Questo telecomandino Che gli attiva pure La parlantina Perché ovviamente Prima non ce l'ha Solo quando si arrabbia Ce l'ha Eh beh Bisogna stare attenti No Allora praticamente Quindi Questo coso Attiva per esempio Belzebu Belzebu È uno dei demoni Invece Attiva anche Il fuoco Il fuoco Attiva Attiva anche Le urla Sono tutti effetti speciali In realtà Perché ovviamente Poi Però vabbè Scusate Dovevo vedere Perché non ci vedevo Niente Però Per ora Non dobbiamo ancora Attivare l'inferno Ok Dobbiamo Dobbiamo Restare calmi Tranquilli qua Tua sore Allora Allora Cerchiamo di stare tranquilli Perché Qua se no Guardate Adesso noi tranquilli Passiamo Tanto Sono stupidi Tutti quelli che Che finiscono per terra No Che Che fanno Che non hanno la minima pazienza Di aspettare No Sono scemi loro Che volete che vi dica Ho detto Aspettiamo un attimo Aspettiamo un attimo Senza essere però Stupidini Eh Senza essere stupidini Dunisiani 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 Sto per Sto per accendere Gli inferi Vi dico solo questo Eh Allora Svegliati immediatamente Creatura dell'universo Schiffosa Tu Tu Chiamo a me Le luci Del Allora Però Non è possibile Porca di quella miseria Prima di tutto Quiti immediatamente Perché non mi interessa Più vedere nessuno Di quei trogloditi Delle caverne schifosi Trogloditi Oh che giulive Oh che giulive Svegliati tu Perché sennò ti tiro Guarda Uno di quei Spacciagnoni Che tu non hai la più pallida idea Non farmi Innervosire tu Tu Cavoletto Eh Per non dire qualcosa di più Concreto Dunisiani Io vi devo confessare Un segreto Un segreto Che vi ho tenuto Nascosto Per troppo Tempo Qual è questo segreto Allora Si tratta Di una cosa Molto semplice Non ho mai vinto Nessuna corona Su Fall Guys E nemmeno questa volta La vincerò Fra l'altro Allora Purtroppo questa cosa È È rimasta Nascosta Per troppo a lungo Mi spiace Mi spiace Dovervi dire Questa Questa Per Dovervi dire Per dovervi dare Questa notizia Si vede che sono Molto bravo a parlare Io no Adesso vado a disperarmi Allora Per dovervi dare Mi spiace Dovervi dare Questa notizia Così Così difficile Così complicata Da accettare Perché Ahimè Tutti più o meno Hanno vinto Una volta nella vita Anche voi scommetto No A tua sore A Fall Guys Eh Pure voi Questa parte È la parte Che mi fa più Incavolare Di questo mondo Per Spostati immediatamente Hot Dog del cavolo Se non vuoi che ti dia Eh Un Hot Dog Fra chissà dove Allora Forza Salta O creatura Dello schifo Allora Indonesiani Qua Allora 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 Ti svegli Idiota Inutile Schifoso Vediamo Se ce la facciamo Entro domani mattina Perché qua Si sposta Sta Sguatterina Ah Sei stato eliminato Ma chissà come mai Va Esci immediatamente Esci Esci Ultima volta Che provo Dopodiché Spacco tutto Allora Questo È la cosa magica Facciamo andare avanti Gli altri Ok Guardate Guardate Gli stupidini Che si schiantano Contro Perfetto E poi Noi li seguiamo A ruota Non so se sapete Come funziona Questa Questa cosa Allora Assolutamente Prima Andiamo da questa parte Tizio inutile Perché tu sei così Perché Ho creatura Perché Io son così Perché mi schianto Contro il palo Ma lo sapete Che anche da piccolo Ero così Allora Adesso vi racconto Un aneddoto No mio Da piccolo Io ero talmente Spostatevi immediatamente Spostatevi immediatamente Dalla mia Vista Ok Perfetto No perché Bisogna essere Categorici Con queste persone Oh così Oh ti faccio fuori Allora Dicevo Vi stavo raccontando Un aneddoto No E abbiamo pure La possibilità Di rifarci Per questo Per questo round No Round schifoso Allora praticamente Io da piccolo Cos'è che facevo Guardavo per aria Letteralmente Guardavo per aria Oppure Non lo so Camminavo Allora Porca miseria Spostatevi immediatamente Tutti Ok E praticamente Io cosa ho fatto Una volta Sono andato A sbattere Proprio PAM Così PAM Proprio In pieno Proprio Porca miseria Una cosa Pazzesca Sono andato A sbattere Contro un palo E ci sono rimasto C'è proprio Allora Se perdo di nuovo Mi arrabbio Cioè mi arrabbio tanto Però insomma È stata più o meno La fine che ho fatto Non vi ricordate Su queste porte Schifose Forza Sì Vai così Vai così Vai Creatura Turgida Allora Cerchiamo di Cerchiamo di Di sopravvivere A questa nuova Ondata Di 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 Sconsertudie Quando non sai cosa dire Però stai registrando Un video E dici Ste No Queste cose Ecco Questa è L'esempio tipico Mi stava venendo Ruttino Scusate intanto Però l'ho trattenuto L'ho trattenuto Allora Qua praticamente Cos'è che dobbiamo fare Per chi non ancora Conoscesse Questo Questo gioco Meraviglioso Allora Molto meraviglioso Sì 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 Allora praticamente Qua si deve stare in equilibrio Anche voi State così Guardate Fate così Per mantenere L'equilibrio dell'asta Vai In mezzo Cioè Ho una roba pazzesca Cioè proprio Se lo volessi rifare Ma proprio Ma proprio mai Ma mai Ma proprio Ma mai nella vita Ma proprio Cioè proprio ciao Cioè proprio Addio proprio Allora Fate così Mi raccomando Dovete essere in tanti A farlo Fate così Così perché almeno Così non sembrate affatto Malti di me No scherzo Però questa cosa mi aiuta A mantenere l'equilibrio Fate tua sorella Allora Tesoro Allora Non farmi nervosire Signor Fol Cavolo Eh Non farmi nervosire Ti dico solo questo Mannaggia te Svegliatevi immediatamente Immediata Immediatamente Cretini dovete Allora dovete andare da questa parte Svegliatevi Da questa parte Veloci Veloci Adesso da questa Se voi andate No vabbè Questi Questi Ci sono cretini Sono cretini Duniseni sono Sono idioti Cretini Fino a Fino Ma proprio Fino al midollo Scusatemi Scusatemi No è impossibile Cioè Non posso Duniseni Ci rendiamo conto Ok forse Forse ce la facciamo Forse Oh Oh si Si Ok perfetto Siamo passati almeno Almeno fin qua Però adesso dobbiamo stare attentissimi Perché praticamente Questa cosa È Finché Tua sorella Sì Vai 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 Ce la possiamo fare Dunisiani Io credo Nei cuori Perché tu Ha Te Non farmi dire Non farmi dire Se muoio Se muoio Non voglio morire Dai Voglio vincere una corona Questa è la modalità Più complicata Di Fall Guys Praticamente Non so se Dai 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 No allora Se arrivano Se arrivano Prima di me Io li denuncio Ma proprio forte Allora forse No Manca uno Basta Basta Io non gioco Basta Allora Allora Io mi chiedo Io mi chiedo Porca di quella miseria Ma è possibile Che io Arrivo Letteralmente La terz'ultima Persona E non Mi qualifico Per il prossimo Per il prossimo Esercizio Cioè Tua sorella È un esercizio Ok Quella scrofa Allora Allora Non farmi Non farmi nervosire Esci immediatamente Perché questo Non è il mio round Purtroppo Dobbiamo osservare Non so che caspita Sia questo Una specie di oddo Con i pantaloncini Ma vai a quel paese Ok Vai a quel paese Tu È tutta La stirpe Dei Folgaisiani Invece I duniziani Sono Proprio Belli Tutti quanti Insieme Siamo Vabbè Insomma Basta La smetto Sennò qua Degenera Tutta quanta La situazione Quindi Duniziani Per chi È arrivato Fino a questo Punto del video Se siete arrivati Se siete stati Così bravi Da essere Arrivati Fino a questo punto Mi raccomando Scrivete nei commenti Scatola maledetta Come segno Del fatto Che siete arrivati Fino a questo punto Del video Mi raccomando State attenti Alle scatole maledette E chissà A quale altre Maledizioni Di Fall Guys Non so se ce ne sono Ma se ce ne sono Beh Allora Allora Mamma mia Che paura La scagarazzata Perfetto Quindi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Duniziani